Torna con la seconda edizione a Biciolio, tra passato e futuro, giornata dedicata alla cultura millenaria dell'ulivo, alla storia e al futuro del prodotto principe della Puglia, in programma sabato 2 giugno nel suggestivo Borgo di Acaia, città fortificata nel XVI secolo nel cuore del Salento. Quindi all'interno del castello e del Borgo di Acaia verranno organizzate delle manifestazioni, sia all'esterno, nel Borgo, quindi una piazza di mercato dove i produttori di buona terra andranno a esporre l'olio extravergine d'olivo in maniera particolare, ma tutti i loro prodotti d'eccellenza, e all'interno del castello, oltre alla visione di film documentari, di pitture particolari che ritraggono alberi di olivo millenari con dei volti particolari, si terrà durante tutto il giorno, durante tutto il giugno, un importante convegno. Un percorso dal passato al futuro dell'olio, attraverso scienza, storia, territorio e cultura, ideato dall'associazione Buona Terra, Movimento Turismo dell'Olio Puglia, per la riscoperta della cultura dell'extravergine e del turismo legato all'olivo in Puglia, inserito in una più ampia programmazione progettuale, promossa dall'assessorato all'industria turistica e culturale della regione Puglia. Il turismo dell'olio è proprio quello che consente di entrare nelle città, di visitare i frantoi poggei, di visitare frantoi che raccontano proprio la storia di contadini che vivevano anche per molto tempo sottoterra durante la stagione della molitura delle olive. E significa anche raccontare l'ottima qualità di questi oli, magari uniti a spezie o utilizzati, diciamo, proprio per la salute. Ecco, questa grande manifestazione del 2 giugno, questa grande festa, il castello di Acaia, vuole fare proprio questo. Ricco il programma di iniziative dedicate a turisti, visitatori e appassionati di gastronomia a partire dalla mostra mercato aperta al pubblico Glievo di Buonaterra, allestita nella piazza antistante all'ingresso del castello, in cui i soci dell'associazione offriranno oli extravergine e prodotti tipici.